che fa contropiede da canestro subito, qui intanto butta fuori molto male Gerald Robinson e allora Josh Perkins si scatena in contropiede, ne mette altri due, la Epicasa torna davanti e qui altra palla recuperata Josh Perkins per Wes Clark che si è aperto benissimo Adrian che aspetta il movimento di Perkins, lo serve adesso, sette secondi per andare al tiro per Brindisi l'attacco qui di Perkins che si arriva la sconfitta di Berlino e il viaggio da Berlino a Brindisi che non so se è fatta con Scalo a Milano o diretto, non lo so, ma è rilevante provando ad approfittare insomma di qualche rientro un po' pigro degli avversari per andare a segnare qui Josh Perkins penetra e scarica per il tiro piazzato di Neat è sempre la caviglia subita in allenamento quindi la squadra di Vitucci certamente non è proprio in un momento migliore questa ultima frazione di terzo quarto palleggio per Perkins fuori per l'altro Perkins ovvero Josh che si prende questo palleggio il resto è il tiro molto bene eseguito siamo in due direi assolutamente ma credo che anche tutti il tutto il pubblico a presto se si può fare un stop qui, non puoi vedere cosa succederà per Brindisi Josh Perkins è accoppiato con Ebois, riapre invece per Gabriel l'attacco ancora molto involuto, Josh dovrà accelerare il balzo comodamente controllato da Udom che affida subito a Josh Perkins sotto, passaggio illuminante no, assolutamente una pessima idea passare dietro nei blocchi con lui proprio tutto il tempo per prendere anche il soffio del vento come dall'altra il balzo fatto da parte di Mattia Udom, anche lui in campo in questo secondo quarto di gioco, ha un'altra strada davanti a te Josh Perkins, non puoi esimersi da prendersi has it knocked out of his hands, here comes Elijah Stewart and then Elijah Stewart has it taken away by Josh Perkins who pulls up for three per Adrian il triangolo completato per Nick Perkins, gran raddoppio di Paiola che mette subito le mani addosso a Nick Perkins, spalla che gira nell'angolo per Josh Perkins, la bomba happy Casamundi is his free throws there's a three again, the three is a three is good is it you a Grazie a tutti.